Tutti pensano di poter cambiare il mondo, nessuno di cambiare se stesso. Osservo i gesti, quelli apparentemente inutili di ogni persona, quelli che non ricordiamo ma che condizionano la vita di altre persone. Gesti. Chi mai penserebbe che nei gesti che non ricordiamo di un'intera giornata è disegnata la vita di altre persone? Nei gesti è la vita. Nei gesti è la vita. Ciao ragazzi. Lo so, lo so, vi state facendo tante domande. Perché siete lì? Perché ho bisogno di voi. Uno di voi è un assassino. Uno di voi. Deve pagare. Avete 58 minuti adesso. Voi uccidete l'assassino. Io vi faccio uscire. Se non riuscirete a scoprirlo entro 56 minuti, vi riterrò tutti responsabili. Io vi ammazzo. Io vi ammazzo tutti. Non sono stato, non ho fatto niente. No, no, no. No, no. No, no. 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 Grazie.